Esiste a Carpi il Borgo Gioioso, dove continua la mostra We've Love. Beatlemania, 50 anni con i Beatles, fino al 22 aprile con il patrocinio della città di Carpi. Domenica 22 aprile il centro commerciale Il Borgo Gioioso di Carpi sarà aperto dalle 9 alle 20. Pomeriggio con popcorn per tutti e alle 17 premiazione e concerto delle band vincitrici del Borgo Gioioso Beat Factor. Il Borgo Gioioso, acquisti con gioia.